Un saluto dal Tg della Mobilità, la giunta di Roma Capitale ha approvato lo schema di protocollo di intesa per realizzare 800 metri di ciclabile dalla rampa esistente di collegamento sul lungotevere degli artigiani nei pressi del ponte dell'Industria, tra i quartieri Testaccio e Marconi, sino ad entrare da largo Giovanni Battista Marsi all'interno dell'ex mattatoio. L'opera permetterà la connessione tra le banchine del Tevere che verranno contestualmente riqualificate, attraversando ponte Testaccio sino a recuperate strutture universitarie di Roma 3, dell'Accademia delle Belle Arti e del Macro nell'area dell'ex mattatoio. Fondazione Roma si è offerta di realizzare a sua totale cura e spese questo tratto di ciclabile per complessivi 1,3 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.